Coinvolgere le aziende per vaccinare i lavoratori. E' la proposta emersa dall'incontro convocato in videoconferenza dal Ministero del Lavoro. A rappresentare il Governo il Ministro Orlando, il Ministro della Salute e Speranza e i tecnici del Dicastero dello Sviluppo Economico. Dall'altro lato le parti sociali con i segretari dei tre principali sindacati e poi Confindustria. Tra i presenti anche il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid. La proposta del Governo è chiedere dunque l'aiuto dei medici aziendali per somministrare il vaccino innanzitutto alle categorie di lavoratori più esposti al contagio. Orlando ha citato per esempio la grande distribuzione e i servizi essenziali. Durante il confronto è emersa anche un'altra ipotesi, usare la rete degli ambulatori messa a disposizione dall'Eneil. E' un modo anche di ringraziare chi in questi mesi si è esposto e che nei giorni del lockdown ha sfidato il virus. E' un modo di dare più certezze, più sicurezza ai lavoratori italiani e al sistema produttivo del nostro paese. Sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro non ci sono ancora date certe, ma il Ministero della Salute dovrebbe attivare a breve l'iter per implementare le nuove misure. Serve però un nuovo protocollo. Favorevoli sindacati. Per il neosegretario della CISL, Sbarra, si possono siglare delle nuove intese per organizzare la campagna vaccinale. Per Landini della CGL serve un coordinamento a livello nazionale e non regionale per la somministrazione dei vaccini nelle imprese. Per bombardieri della Will bisogna quanto prima firmare un nuovo protocollo che tenga in considerazione i lavoratori fragili e le esigenze delle piccole aziende. E per Confindustria, con circa 5 milioni e mezzo di dipendenti delle imprese associate, è possibile raggiungere un vaccino di 12 milioni di persone considerando anche i nuclei familiari.